Ciao a tutti, sono Felice Limosani, un creativo multidisciplinare che artisticamente lavora con i miglia più disparati. Non disdegno nessun tipo di tecnologia o di tecnica. Oggi è stata una bella giornata, interessante di approfondimento, ringrazio Connessioni che ha dato senso e significato a questo termine, a questo concetto, perché connettere le persone, connettere i linguaggi è un po' alla base del mio credo artistico, quindi per trascendere è importante connettere, ibridare e fare in modo che nei ruoli singoli, mettendo assieme, venga fuori qualcosa di nuovo. Spero che in futuro, soprattutto le nuove generazioni, coloro che in questo momento si stanno formando e studiando, capiscano che la tecnologia è un mezzo, che la tecnologia deve essere abbinata alle tecniche, vanno rispolverate un po' le maestranze, vanno riattualizzate gli artigiani o comunque coloro che hanno un sapere profondo con le mani, con la testa, con il cuore e con la tecnologia per fare cose nuove. Quindi io mi auguro che il futuro ci dia sempre più qualcosa di straordinario di nuovo perché ovviamente la più grande tecnologia che si chiama uomo non finisce certo la sua storia qui oggi con questo che sto dicendo.